Nel sud della Francia il suo ristorante non aveva rivali nel mio ristorante la cucina non è un vecchio elogoro matrimonio è ancora un amore passionale finché arrivò una famiglia che rimescolò tutti gli ingredienti voglio comprare questo ristorante questa è proprietà privata mi scusi ed è sua la proprietà no no oh allora anche lei è un'intrusa cos'è lì un matrimonio un funerale la morte del buon gusto se il vostro cibo è come la vostra musica vi suggerisco di abbassare bene abbasso la musica alzerò la temperatura però quel ristorante è tutta la sua vita dal giorno in cui il marito è morto madame laurie capisce con un solo boccone se uno chef ha il talento per essere un grande mi ha sedotto la mente con le sue salse in sapori l'espressione giusta è raffinatezza di sapori ed è quello che imparerà nella mia cucina è bravo come ho sempre pensato di più amore cucina e curry perché cambiare una ricetta che ha 200 anni perché forse 200 anni sono troppi siamo pronti per fare siamo pronti per